Le elezioni provinciali di Salerno hanno sancito un grande apprezzamento per il consigliere rieletto Giovanni Guzzo, occilentano d'origine ma trapiantato nel Vallo di Diano dove si è creato una famiglia. Un apprezzamento che lo ha portato anche per questa tornata elettorale ad essere risultato il più votato e pertanto il candidato più credibile a ricoprire la carica di vicepresidente della provincia. Un incarico che al momento non è stato ancora ufficializzato ma che lo vede comunque già impegnato a favore dei territori che lo hanno scelto come rappresentante. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale infatti per effetto della legge del rio anche quest'anno hanno visto impegnati esclusivamente i consigli comunali e i sindaci, ciascuno in rappresentanza del proprio comune. E in grande maggioranza hanno deciso di ridare fiducia al consigliere di Novi Velia che vive a Padula e che manifesta la sua gratitudine per il sostegno ricevuto. Sì, è un bel momento non solo per me ma anche per il Partito Democratico che passa da cinque consiglieri provinciali a otto, un momento di soddisfazione, di gioia ma soprattutto un momento che riempie di grandi responsabilità e di impegno per l'intera comunità salernitana. Il messaggio che è stato come dire bello, importante ricevere dagli amministratori essere più votato sia in termini di voti ponderati che in termini di numeri di consiglieri comunali 207 consiglieri comunali su 1780 partecipanti alle elezioni è stato davvero un bel momento. Non sono pochi, sono tutti amministratori della nostra provincia, sindaci e consiglieri comunali quindi davvero un bel momento che, voglio dire, rappresenta non un punto di arrivo ma sicuramente la continuità di un impegno. Giovanni Guzzo, proprio per la sua vicinanza e il suo affetto ai territori del Cilento e del Vallo di Diano sottolinea la necessità che le due aree debbano essere unite per puntare ad una crescita e ad uno sviluppo comune. Penso che la forza del Cilento e del Vallo di Diano sta nell'unità, nell'unità di due territori del resto il Parco Nazionale nasceva per questo. Il Parco Nazionale ha dato un'identità territoriale al territorio al sud, più a sud della provincia di Salerno il Cilento e il Vallo di Diano. Credo che ragionare in termini solitari sia anacronistico soprattutto per il contesto sociale e culturale in cui noi viviamo. Ormai si parla di Europa, pensare che si possa parlare di territori separati nella stessa provincia è un errore. Tra l'altro il Cilento e il Vallo di Diano vivono entrambi da protagonisti nel Parco Nazionale e ritengo che debbano essere, come dire, le due sentinelle più importanti a sud della provincia di Salerno.